Salve a tutti fratelli e sorelle e benvenuti al nuovo appuntamento di avvisi, notifiche e programmazioni di oggi 31 luglio 2019 Dio vi benedica, sia lo dato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa volontà e Ave Maria Bene, nella puntata di oggi live ci sarà la coroncina della Divina Misericordia alle ore 14.45 circa e meditando live con una doppia puntata sempre se Dio vuole alle 16.30 e alle ore 22 sempre se il Signore permette di poterla fare ovviamente queste trasmissioni Dio vi benedica, sia lo dato Gesù Cristo, Ave Maria e Santa giornata a tutti voi